Brian Francis Johnson è un cantante britannico, noto per essere il frontman del gruppo Hard Rock AC, DCI dal 1980. Johnson è di origini inglesi e italiane. Il padre Alan era un sergente maggiore dell'esercito britannico mentre sua madre, Esther De Lucia originaria di Rocca di Papa, fu una partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale aiutando gli alleati nella loro missione in Italia, nascondendo alcuni soldati in una zona protetta nella fattoria della sua famiglia. Ha affermato di aver ereditato il timbro vocale dal padre. Prima di entrare negli AC, DCI cantava Nei Giordi, una band glam rock di Newcastle formata nel 1972. Dopo aver pubblicato diversi singoli il gruppo si sciolse nel 1978 ma Johnson decise di riformarlo nel 1980, dopo aver firmato qualche contratto, tuttavia, nello stesso anno venne chiamato per un'audizione con gli AC, DCI. Johnson entrò quindi nella formazione il 15 aprile dopo la morte del precedente cantante Bon Scott, occorsa nel febbraio dello stesso anno. Nonostante la pesante eredità il successo fu immediato come testimoniato dal celebre Back in Black, considerato uno dei migliori album hard rock di sempre e ad oggi numero due nella classifica dei dischi più venduti di tutti i tempi, dietro thriller di Michael Jackson. Il disco arrivò alla prima posizione nel Regno Unito e alla quarta negli Stati Uniti, dove restò per mesi nella Top Ten di Billboard, seguì un tour mondiale di grande successo che lo consacrò come degno successore di Scott. Nel novembre del 1981 uscì For Those About To Rock, We Salute You, che si piazzò direttamente alla prima posizione nelle classifiche statunitensi e vendette milioni di copie in tutto il mondo, seguito da un altro tour mondiale da tutto esaurito. Nel 1997 avviò per la prima volta una collaborazione con un gruppo esterno, con la composizione e l'incisione di un brano della band Jekyll dal titolo Locked and Loaded, che compare nel loro terzo album Cut the Crap. Nel 2016 è stato costretto ad abbandonare la band per problemi all'udito ed è stato sostituito per le ultime date del tour dal frontman dei Guns Roses Axel Rose. Nel 2020 torna nel gruppo e insieme alla band pubblica il diciassettesimo album, Power Up. Nel settembre 2009, a Johnson è stata diagnosticata la sindrome di Barrett. Ciò ha portato gli AC, DC ad annullare diversi spettacoli nel loro tour del 2009. Tuttavia, i medici sono stati in grado di prevenire l'insorgere del cancro.